Il governo Renzi Perdendo assistenza i cittadini correranno il rischio di perdere i diritti E noi rischiamo il posto di lavoro, dall'anno prossimo potremmo non essere più qui Dal primo gennaio non potremo più aiutare Marta ad ottenere i congedi per l'assistenza familiare Non potremo più aiutare Giuseppe per la domanda di pensione Non potremo più aiutare Luigi e Giovanna nella compilazione della domanda di invalidità civile E non potremo più tutelare chi ha avuto un infortunio o una malattia professionale Non potremo più aiutare Irina per il ricongiungimento familiare o il rinnovo del permesso di soggiorno I patronati sono la casa dei diritti Firma la petizione NO ai tagli ai patronati Nelle nostre sedi o sul sito www.cgilmodena.it Inviando tu un tweet con l'hashtag per i diritti a Matteo Renzi Io l'ho già fatto Io ti tutelo Io ti tutelo Vieni con noi in piazza sabato mattina 15 novembre Manifestiamo per i diritti di tutti Grazie a tutti